Siamo pronti a partire per questo viaggio. Siamo stati allertati ieri mattina per andare a prendere dei bambini al confine con l'Ucraina, delle mamme che sono attualmente in Italia e quindi faremo questo ricongiamento familiare. L'appuntamento è al confine ungherese, abbiamo circa 1100 chilometri, 10 ore di viaggio. Non sappiamo però il traffico che troveremo in prossimità della frontiera perché molti sono i parenti che stanno andando verso la frontiera a prendere altri parenti che erano attualmente in Ucraina.